Ero sul treno. Avevo importanti affari da sbrigare da qualche parte. Il treno era affollato. Tutti sembravano piuttosto irritati e a disagio. Ovunque guardassi vedevo facce tristi e arrabbiate. Poi vedi questa giovane donna. Sorrideva gentilmente a tutti quelli che la guardavano, ma nessuno la ricambiava con un sorriso. Non c'era nessun segno di ansia o irritazione sulla sua faccia. Ogni volta che il treno si fermava e entravano donne incitte e anziane, lei lasciava il suo posto. Io ero in piedi vicino a lei. La guardavo. Nemmeno io sorridevo, ma ero affascinato dal suo comportamento. Si accorse che la stavo guardando. Mi guardò e mi sorrise timidamente. Poi distorse lo sguardo. Io feci una strana smorfia, ma non sorrisi e guardai fuori dal treno. Poi entrò un cieco e lei gli cedette il suo posto. Ora era davvero vicina a me. Così vicina che potevo sentire il profumo dei suoi capelli. Allora lei si rigirò dalla sua parte, quasi toccando la mia faccia con la sua guancia, mi disse... Scusi? Niente. Sorrise timidamente. Arrivò la mia fermata. Prima di uscire non riuscii a fare a meno di sussurrare. Hai un sorriso bellissimo. E me ne andai via. Lei sorrise di nuovo, aggiustandosi i capelli sull'orecchio e disse... Anche tu. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.